... Incidente oggi, venerdì 28 marzo, poco prima delle 17.30, sulla provinciale 222 d'Ozzegna. Coinvolto una motocicletta Yamaha R1 e una Ford EcoSport. Nell'impatto la moto si è distrutta nella parte anteriore, danni anche alla vettura. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Rossa di Libarolo Canavese, illesa la coppia di pensionati che si trovava a bordo della vettura, mentre Centauro, soccorso, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.